Prossimo incontro Magnesi, Angolo Rosso, Moscatelli, Angolo Blu, siamo sempre per questa selezione, una selezione che darà, vediamo l'arbitro che è pronto a dare il via all'incontro, stanno ancora mettendo il caschetto a Mignozzi, i pugili si sono salutati, Moscatelli-Mignozzi, Moscatelli-Angolo Blu, prima ripresa del match, Moscatelli-Mignozzi, Moscatelli-Angolo Blu, Mignozzi-Angolo Rosso, Moscatelli leggermente più alto, ha richiamato non so per cosa, ha i capelli che sono fuori del caschetto che possono dargli noia. Riparte il match e le regole sono regole, bisogna rispettarle. Moscatelli-Mignozzi, Moscatelli cerca di attaccare il... Bellissimo, 1-2, 1-2, ambo le parti, questi ragazzi si contendono veramente... la... Moscatelli-Moscatelli-Moscatelli attacca, bel pugiletto Moscatelli, mi sembra di vedere un bel pugile che abbia la voglia di cambiare le regole di questo incontro, momentaneamente fa un po' guardia a destra e guardia a sinistra e sono... sono molto interessanti... un ragazzo... Moscatelli-Moscatelli-Manno aperta colpito... Magnesi-Mannesi attacca, Moscatelli in cassa, ancora Magnesi che attacca, Moscatelli in cassa ma riesce a uscire dal... dalla bagarre... abbiamo visto già pronto... Moscatelli... ancora... alla fondo... 1-1... Moscatelli... Michael... richiamo sempre per la mano aperta... mano aperta... Magnesi... Magnesi... cerca di... penetrare... il Moscatelli... ancora... non ti devi girare... gli dice... un volante... un volante... un volante... Magnesi... Moscatelli... finisce così la prima ripresa... Secondi chiama il... lo speaker... Magnozzi-Moscatelli... Seconda ripresa... vediamo... come viene... come viene valutato... il Magnesi... sta attaccando in maniera... eccezionale... lo trova... una bella scelta di tempo... 1-2... 1-2... colpi bassi... molto... ancora... i capelli fuori... dal... dal casco... riprende... l'incontro... Moscatelli-Magnozzi... Magnozzi... abbiamo visto... attaccare... Magnozzi... veramente... ha preso... il... l'iniziativa... e sta portandosi... sempre più... avanti... ha recuperato... dei punti in questo... questa... ripresa... il... Magnozzi... il Moscatelli... cerca di difendersi... ancora... ancora... ma... ancora... Michael... che... tira... Magnozzi... moscatelli... moscatelli... ancora... un bel incontro... abbiamo visto... due già... due bei ragazzi... che... danno... veramente... una certa... una... una certa... qualità... alla... una... seconda... ripresa... che... vediamo... il Magnozzi... veramente... all'attacco... all'attacco... Magnesi... Magnesi... attacca... Magnesi... Moscatelli... Magnesi... è sempre... in... fase di... è sempre... fase di... ancora... il... Moscatelli... Moscatelli... che... ancora... Magnesi... tira... testa alta... tira... testa alta... il naso... il naso... è stato... colpito... c'è... una leggera... fuoriuscita... di sangue... ma niente di più... il dottore... il dottore... gli ha pulito... Magnesi... Magnesi... è deciso... ha veramente... una carica... eccezionale... si sta guadagnando... questo incontro... fine della seconda ripresa... un incontro che... lo darei decisamente... a Magnesi... perché... ha preso... e l'iniziativa... e sta portando... dei colpi... fuori i secondi... fuori i secondi... in questo momento... chiama... chiama... lo speaker... buona... ripresa... per... Magnesi... e... ora vediamo... Moscatelli... come... se potrà recuperare... il disavanzo... i... i... giudici... già danno... un esito... un esito... positivo... a... Magnesi... c'è un 12... un 12... a 6... insomma... è quasi un 50% in più... se non ci fosse... non c'è qualcosa di particolare... il... Magnesi... se difende il suo incontro... avrebbe... già... quasi... la vittoria in tasca... sempre che... riesca a portare... in questo momento... eh... il suo match in fondo... con... chiarezza... l'arbitro dice di non tenere... questa scelta di tempo... di... sosta... ambo le parti... vuol dire che... ci sono anche delle... bravo... non c'è là... non c'è là... 1, 2... 1, 2... ancora... da parte... di... Magnesi... vediamo... i moscatelli... è un bel pugile... i moscatelli... non riesce a tenere... c'è ancora il naso che... eh... gli... cola... il dottore... rinterviene... per la pulitura... riconvalida... la... vediamo cosa decide... il dottore... ma penso che... non dovrebbe... sospendere l'incontro... perché... ed ecco ci riprende... ha ridato il via... al dottore... siamo all'ultima ripresa... questa è la ripresa decisiva... una ripresa di difesa... da parte del... Magnesi... e... il moscatelli... deve cercare... di guadagnare... ma... è difficile... e ora qua... si dà il tutto... per tutto... ora... qui viene lo sbaraglio... molto... pericoloso... questo momento... perché... lo sbaraglio... non è... favorevole... a nessuno... ormai manca poco... alla fine... della terza ripresa... siamo sull'ordine... della... ed ecco così... termina la terza ripresa... una... buona dose di spettacolo... applausi da parte del pubblico... perciò vuol dire che... realmente... hanno dato qualcosa... come... sportività... e come... eh... senso logico... dello sport... del... pugilato... ora sentiamo il verdetto... sicuramente... sarà per... Magnesi... vince l'angolo rosso... Magnesi... si aggiudica... questa... selezione... e... domani... vedremo... ancora... non so se... non viene premiato... non è una finale questa... ma... questa è la semifinale... perciò lo vedremo domani...